Lo stacco, in questo istante Pasqualina disa emerge all'attacco di Parker O'M lungo la corda veloce Palmares, Palmares rientra a Parker O'M a largo attacca Pasqualina, prima curva con Pasqualina su Palmares, Parker O'M all'esterno, sbaglia Palmares. Numero uno Palmares squalificato. Palmares in vantaggio su Parker O'M, poi Pontebba a largo risale, Parker Ran, poi ancora Paolo Caff che guadagna all'esterno, Pasqua del Pinallo steccato, picche foto in coda al gruppo, 15 e 3 la seconda frazione, c'è un 30 per i 400 iniziali, 30 abbondante, e poi i 600 che se ne vanno in 47 scarso, passaggio di fronte alle tribune, Pasqualina al comando, arriva Paolo Caff in corda, Parker O'M all'argo, Parker Ran che lascia sfilare Paolo che va ora ad incalzare Pasqualina. Pasqualina, Parker Ran trova una schiena vitale da seguire, Pontebba in terza parida esterna, Pasqua del Pino lungo la corda, in coda picche foto, 14 e 1 la quarta frazione di Pasqua del Pino. Adesso il passaggio al primo chilometro che Pasqualina passa in 1,16 e 3, retta opposta alle tribune, Pasqualina alla corda, Paolo che attacca, poi i due Parker, Parker O'M di dentro, Parker Ran all'argo, quindi Pasqua del Pino e Pontebba. 4,18 la retta opposta alle tribune, Pasqualina e Paolo alle prese, con Paolo che appariglia completamente l'avversaria, è seguito da Parker Ran nel suo incedere, a 200 dal palo, Pasqualina, Paolo che insiste nell'offensiva, poi Parker Ran, di dentro Parker O'M, retta di arrivo, Paolo Caff prende il sopravvento, Paolo Caff saluta tutti e se ne va a vincere, davanti a Pasqualina Disa che eroicamente conserva ancora un bel secondo, mentre per il terzo sono in linea Parker Ran in open stretch.